giovedì 30 alle ore 21 parlerà in piazza l'onorevole Aloe e Valenzise Aloe campa e Valenzise non campa Cittadini, lavoratori, studenti, casse integrati Giovedì alle ore 21, giovedì 30 Parlerà il compagno, il camerata, Fanfani, parlerà Fanfani Però ci vuole una seduta sparita che mi parla Fanfani Alle ore 21 parlerà l'onorevole Amento Le Fanfani Bello, bello Amento Le Fanfani Chi stesimo? 15, anno 2012-2013 Ora mi a dire che Amento Le Fanfani non è più costa Stavo pensando che Fanfani è in bacio, non si vede Veloce, veloce Fanfani e in bacio è lì legato, non potevano fare questi simuidi Fanfani e Foti Apposta cacciava Martini perché era in bacio tipo Fanfani Martini? Martino No e basta, fai un serio Alfredo Ciao 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 Grazie per la visione!